Ciao a tutti e benvenuti sono Matteo Fire e oggi siamo finalmente a grande richiesta di un video insieme a Giulia Ciao E siamo qui su Roblox per creare il nuovo personaggio, il nuovo profilo di oggi Oggi andremo a creare il profilo di SCP 096 qui su Roblox Non so quanto costaranno i vestiti, non sappiamo neanche se esistono o meno i vestiti 096 qui su Roblox E andremo a cercare tutti quanti insieme Comunque per questo video su Roblox e se volete anche altri video su Roblox in futuro Lasciando benissimo un mi piace a questo video e arriviamo a 3.500 4.000 mi piace, 3.500 è stato troppo po' che do una botta al gomito incredibile Allora siamo qui con il nostro personaggino di Roblox e abbiamo solamente 109 box Quindi Giulia in caso non ci bastino shopperà per noi le monetine per poter comprare tutti quanti i vestiti Allora 6.000 mi piace e Giulia shoppa a 50 euro su Roblox Ma io non sono d'accordo A 6.000 mi piace, 50 euro No, non ce li ho Sì, sì Allora io direi da cosa iniziamo? Dalla pelle, la pelle volendo possiamo anche lasciarla bianca Perché bianco? Sì, uno scheletro Eh diciamo uno scheletro, la vediamo un attimo e cerchiamo 096 Andiamo tipo su magliette, dov'è? Ma non vale Beh come non vale, certo che vale Cerchiamo SCP 096 Vediamo cosa esce a posto, sicuramente non funziona Cerchiamo tipo 096 e non funziona Allora iniziamo cercando SCP 096 Vediamo cosa esce Guarda, guarda questo che costa solamente 5 È perfetto questo, c'è anche il sangue sulle mani bruttissime e tutto il corpo con le costole che si vedono Quindi è fatto, è finito Allora c'è qualcuno di più carino, sono 3854 pagine Sono tutti uguali Andiamo avanti all'infinito Oddio guarda questo che brutto È inquietantissimo Allora dobbiamo solamente scegliere a chi comprarlo questo vestito Se a Red Down, a Movie Lovers, a Roxy's Clothes, a Sunset Sunset, lui Sunset Mi piace, mi ispira Allora facciamo compra Compra ora per soli 5 Robux E il tuo portafoglio è contento in questo momento Allora, ora abbiamo la maglietta Dobbiamo andare per i pantaloni Se sì, sono pantaloni per 096 Poi sono bianchi, hai ragione Vediamo, pantaloni Pantano, beh, belli pure questi Io gli metterei questo qua a 096 Ingenza strappati li stanno benissimo È vero, perché questo qua Pure Mi sta proprio bene, guarda È veramente bello, eh Vabbè, poi si torna indietro qua Ok Ma sai che questo passa dal Rainbow Eh, dai Per 0,98 con le mani e poi col sangue 57 Perfetto, 58, costa troppo Mi dispiace, mi dispiace per 0,96 Che vorrei vestirsi in questo modo Ma è un po' troppo per le nostre tasche Allora, SCP 096 Vediamo un po' che cosa esce Nessun tipo di pantalone Giustamente Nessuno Cioè, è impossibile che nessuno C'ha dei pantaloni Vabbè, sta bene di comprare Direttamente insieme, no? È vero Cioè, lui c'è il body È full body Ah, ma non c'è Scusa, ma non c'è le braccia col sangue Cioè, qui c'è le braccia Quelle sotto Che hanno messo a posto le gambe Allora, prendiamolo È lui Ci piace Vai È sparito Ok, è tornato qua Bene, bene, bene Ora abbiamo maglietta Abbiamo pantaloni Ci manca la faccia E poi ci mancano gli accessori Per accessorizzarlo Alla 0,96 Allora, di faccia com'è? C'ha tipo la bocca aperta col sangue Ma che sono le facce costito tipo 500.000 Robux Quindi andiamo subito, subito, subito su facce E vediamo un po', ecco Questa qua, Beast Mode Potrebbe essere Sarebbe perfetta Ma sai come costa 28.000 Costa un pochino Costa 28.000 500 euro Facciamo così Io metterei dal prezzo più basso Al prezzo più alto Così c'è qualcuno gratis Ma non credo, lo prendiamo Ah, questa ci sta C'ha l'affarecchio È troppo felice È troppo felice Vediamo un po' Questa qui Con l'arcobaleno Perfetta quella Ma che perfetta, perfetta Questo qua cos'è? Un arrabbiato Slidering smile Questo è paurosissimo Salve uno con la bocca aperta Col sangue non so se lo dovremo mai Su Roblox Credo Ma uno con la bocca aperta almeno Allora Lui non No Ne abbiamo 99 Lui no Non possiamo Era perfetto questo Era proprio lui Era proprio 0,96 Invece no Dopo un anno che non si faceva la barba Credo 0,96 Allora questa Ghost Face Sembra perfetta Sembra veramente Perfetta Per 0,96 Perfetta È un po' fantasma Però Però è la più perfetta Che ci sta qui in mezzo Però andiamo a vedere un attimo Anche tutti quanti gli accessori Dove stanno gli accessori E andiamo a vedere con SCP Che cosa ci sta Nulla Nessun accessorio con SCP Qualche accessorio con 0,96 Niente Nessuno Cos'è? Io cosa ho fatto? Poi che accessori ha? Cioè nessuno Però ipoteticamente Cosa Cosa gli piace a lui? Sangue Niente Lui vuole essere E' un po' blood C'è qualcosa? No Non c'è niente Un casco Un cappello Delle corna E una medaglia Allora accessori niente Che ci fa con sandwich? Ma non gli piace Non mangia proprio Non c'è neanche lo stomaco Non gli piace senza mangiare Eh ma capito Ma non gli serve mangiare Capito? Allora facciamo così Dobbiamo cercare Questo cos'è? Healing potion Sembra un po' il sangue Però non era sangue Cerchiamo SCP qua Niente Cerchiamo 0,96 Niente Cerchiamo Blood Che è sangue Oh Niente Quanto costa quella spara? Poco Tipo devo aprire un muro 10.000 euro E poi in sconto eh Da 47.000 a 277.000 Quanto ci sono questi sconti? Che aumenta il prezzo Tipo si quintuplica Che mondo siamo Vabbè Allora abbiamo praticamente girato tutto lo shop di Roblox E non c'è una cosa decente per SCP 0,96 Comunque già dovrebbe essere abbastanza carino Poi andiamo a comprare la faccia in caso Vediamo se quelle facce che ho Ce n'è qualcuna che è carina Allora andiamo subito sul nostro personaggio Allora andiamo a togliergli i capelli Andiamo a togliergli il sorriso I capelli si possono levare Ok Andiamo a levare il maglioncino della nonna Andiamo a levargli lo zainetto Andiamo a levare No la testa non possiamo levargli I pantaloni neri Eccoli qua E finalmente possiamo andare a mettere le cose nuove SCP 0,96 Che sono i pantaloncini questi qua Si appaiono Ah vedi Esce direttamente già questo Ah però non c'ha le braccia Se gli metto questo qua Dovrebbe apparire anche del braccio Vediamo un po' Vediamo un po' Braccia di sangue E piedi di sangue Ok che le mani non Però le mani Eh perché non si possono fare cose sulle mani purtroppo Però ci sta È abbastanza simile Allora ora dobbiamo sistemare la testa Con la bocca e la faccia Questa qui Che era quella che ho usato per Aerobrain Ci può stare Ma quella accanto è perfetta Questa dici? Si Di un po' È lui Oh è lui È 0,96 F La femmina è 0,96 Io direi torniamo nello shop E andiamo a comprarci La nostra bellissima faccia Che abbiamo visto prima Quindi faces Andiamo su ricerca E scriviamo ghost Eterno non c'è più Non esce Ma come c'è c'era Ghost face Eccola qua È l'unica con la bocca aperta Con gli occhi un po' Un po' così E andiamo subito a comprarla E andiamo nel nostro profilo Subito di fretta E andiamo ad equipaggiarla Quindi avatar E dov'è? 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 Dov'è la prima? È la prima Ok Ed ecco qui Signore e signori SCP 0,96 Su Roblox Perfetto Ma che perfetto È bruttissimo È bellissimo Vediamo un po' Se c'è una testa un po' più rotonda Di quella che ho Questa Vediamo un po' Questa come sta di testa Già meglio Sì È meglio Sì dai Capelli che glieli mettiamo Perché non ce li ha i capelli Quindi Sembra che ha i baffi però Così Sembra veramente che sono baffi E non che sia una bocca Andiamo a provare In gioco com'è E vediamo Ed eccoci qua Dentro Roblox E siamo proprio lui SCP 0,96 Con un distintivo Perché Perché sì Noi I cattivi li prendiamo E li spavano Aspetta Qui vediamo un po' Salve signore Perché È proprio cattivo Questo 0,96 In teoria sono il poliziotto Potrei andare io in prigione Per quello che sto facendo Ma va bene Lui non muore No Sto sparando No Scherzavo Mi metterò solo in prigione Ok Cosa ha tirato fuori Io non vedo più niente Aiuto Aiuto Mi inseguono No lasciatemi stare Io direi Usciamo un attimino fuori Che è notte Ok E vediamo come è venuto Il nostro bellissimo personaggio Allora pronti Ed eccoci qua A SCP 0,96 Allora Non poteva venire meglio Che bello Così su Roblox Immagino vero Cosa fa questo tipo qua Vuole scappare Vuole scappare Guarda che ti seguo Ti seguo Ti seguo Dove stai andando Vuole scappare Dalla botola qui sotto Non stai per scappare Vero No Vuole scappare veramente Dal tombino No che non vuole scappare Eh 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 stai scappando Eh stai scappando Che cosa stai facendo Non si scappa Dalla prigione No 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 signorio Non si scappa Dalla prigione Devo arrestarti Devo arrestarla Eh devo arrestarla Devo arrestarla Devo arrestarla Ehi Sto arrestando Per caso eh La sto arrestando La sto arrestando Cosa fa dietro le colonne Ti fermi Signor prigioniero Guardalo che prova a scappare Dall'altro muro Non farai saltare Non farai saltare Da quel muro Non scapperai dal muro No No Assolutamente no Facciamo che prendo Ah non posso fare Stato Ah 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 Ti ho vinto Ma Ehi Ehi Ma Mi hai scappato davanti agli occhi Dove credi di scappare Brutto prigioniero Vieni qua SCP 090 Ti fermerà Non c'hai paura di 096 eh Che ti stai inseguendo In questo momento Sei fuori dalla prigione Vieni qua Vieni qua Che ti arresto Perché non posso arrestarlo Devo prendere le manette Vero Arrestalo Lo sto arrestando Perché non me lo fa arrestare Ok A mali estremi A mali estremi Estremi di medi Dov'è Pistola Non puoi scappare Dalla prigione No Non puoi Va bene Non puoi Ok forse abbiamo un po' Esagerato Comunque ragazzi Per questo video È tutto Noi speriamo che vi sia venuto Mi raccomando Mi piace Fatevi sapere nei commenti Se avete altri video Su Roblox Oppure altri video Dov'è andiamo a creare Gli SCP Su Roblox Ovviamente non saranno Tutti quanti facili Come 096 Anzi Quindi se avete un mi piace Un commento Iscrivetevi Se sono ancora più iscritto Per i prossimi video Ci vediamo questa sera Con il video alle 19.10 E poi con i video Ieri sono usciti due video Quindi recuperate E lì Allo studio E lì Al prossimo episodio Ciao